Ciao ragazze, quello di oggi sarà un one week outfit, quindi la settimana di outfit con me vedrete quindi tutti gli outfit che ho indossato questa settimana, oggi venerdì finalmente l'ultimo giorno della settimana e qui insomma vi mostro fondamentalmente come mi sono vestita per andare a lavoro, poi vabbè un paio di sera è capitato di dover uscire anche dopo lavoro, una sera sono andata a casa mia, una sera sono uscita con una mia amica e sono rimasta vestita così, quindi insomma vedrete una serie di outfit, oggi ovviamente essendo venerdì ho un look un pochino più casual per il casual Friday, vedrete negli ultimi due outfit le nappine abbinate alle scarpe, queste sono un po' una novità in vera pelle, quindi si stanno vedendo veramente tantissime, le nappine, i colori delle nappine che ho a disposizione volendo sono queste, quindi nero, marrone, beige, grigio scuro, doratino, beige, tortora rosse, più queste qua azzurre, quindi insomma se siete interessate a queste nappine sono ovviamente in vera pelle made in Italy e vengono 10 euro alla coppia, più ovviamente le spese di spedizioni, secondo me sono un'idea favolosa per rendere un pochino più carine le proprie scarpe che siano da ginnastica o che siano queste stringate, insomma tutte le scarpe che hanno la possibilità di avere dei lacci, è carino personalizzarle appunto inserendo queste nappine, quindi vi lascio il video così le vedrete anche indossate, se ovviamente siete interessate scrivete miastilusa.it, la mia unica solita mail e fatemi sapere cosa ne pensate di questi outfit, se devo essere sincera i miei preferiti sono stati quello di lunedì e quello di oggi, quindi mi piace molto questo look total jeans però con un tocco un po' più glamour, insomma un pochino più carino, fatemi sapere cosa ne pensate un bacione, ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.